buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti al vostro oracolo giornaliero vediamo un po quali saranno le energie che canalizzeremo oggi e vedremo anche qual è il consiglio degli angeli per viverle nel modo migliore per sfruttarle al meglio dunque abbiamo tre carte ok ok queste tre carte parlano di relazioni parlano sicuramente di amore di relazioni di coppia e per quelli di voi che non si ritroveranno nell'ambito della relazione di coppia comunque è così tratta di affetto affetti e persone alle quali vogliamo bene vogliamo bene o che ci vogliono bene il set di spade rovesciato è chiaramente una carta che ci fa prendere contatto con la realtà ci fa prendere contatto con le responsabilità cioè a volte capita che noi o gli altri vogliamo evitare di discutere vogliamo evitare il confronto evitare di parlare perché non ci sentiamo pronti o perché abbiamo paura delle conseguenze o perché magari sappiamo di essere nel torto e quindi non vogliamo ammettere a qualcun altro che abbia ragione questa cosa può capitare a noi o può capitare agli altri è ovvio che questa è un'energia che è generica e riguarda tutti oggi quindi potete sentirla dentro voi stessi oppure potete sentirla nel mondo che vi circonda nel mondo esterno si tratta comunque di un prendere e sentirsi costretti a prendersi delle responsabilità che sia con un confronto che sia con un dialogo che sia con un guardare semplicemente in faccia il risultato delle nostre azioni oppure il risultato delle azioni degli altri sulla nostra vita però ecco che oggi veramente ci accorgeremo di come realmente di come realmente ogni azione ha delle conseguenze ci accorgeremo di quello che stiamo creando nel nostro modo di interagire e di cooperare con gli altri che può essere positivo o può essere negativo però ecco che nella giornata di oggi in particolare questa energia ci può portare a risolvere contrasti o malumori nel mondo appunto relazionale cioè certe cose verranno messe in luce certe cose verranno affrontate perché non si può non farlo quindi il mondo l'universo ci costringe ad affrontare certe cose perché non si può non farlo e questo potrebbe creare un conflitto fra noi e qualcun altro oppure potrebbe mettere in luce una situazione di conflitto con qualcun altro potrebbe per esempio farci litigare oppure potrebbe farci pensare male di qualcuno oppure qualcuno potrebbe pensare male di noi oppure potrebbe metterci di fronte il fatto che qualcuno in realtà non lo sopportiamo non ci piace come si comporta non ci piace come la pensa non ci piace come ci tratta o viceversa qualcuno potrebbe provare queste emozioni nei nostri confronti ma questo in realtà accade perché perché le persone coinvolte o la persona che sembra comportarsi nel modo più distruttivo in realtà sta mettendo al primo posto altre cose non riesce a focalizzarsi sulla relazione non riesce a dare importanza e a dare valore alla relazione perché si sta focalizzando su altre cose che sono o più immediate o più importanti o magari non lo sono però ecco comunque che quella persona preferisce focalizzarvi su quelle altre cose ciò che però comunque mi piace di questa stesa è l'ultima carta che è il re di coppe perché il re di coppe comunque parla del fatto che questa in realtà sarà solamente un momento un'occasione per arrivare al re di coppe che è diritto e il re di coppe è colui che maneggia le emozioni colui che governa le emozioni lui è il re dell'acqua e l'acqua a livello archetipico simbolico esoterico rappresenta i sentimenti le emozioni il mondo interiore il mondo di queste acque che ci si muovono dentro e che vengono tanto governate dalla luna infatti nel videocorso per esempio di magia d'amore spiego come usare la luna e le fasi lunari in base alle nostre sessioni di alle nostre sessioni nelle quali vogliamo fare magari telepsichia o vogliamo fare ritualistica di un certo tipo perché l'acqua è l'elemento principale che compone il nostro corpo l'acqua è costituisce dal 65 al 70 per cento del nostro corpo fisico ed è per questo che una un elemento un corpo celeste come la luna che muove l'acqua determina anche il movimento delle nostre emozioni ora tutto ciò che accade in questa prima fase quindi il guardare la realtà l'accorgersi di certe cose il non poter evitare un confronto il dovere vedere qualcosa che può portare a fastidi conflitti difficoltà nell'ambito relazionale in realtà è l'occasione proprio per risolverli quindi non va vista come un qualcosa di brutto va vista come un qualcosa che ci dà l'opportunità per risolvere il conflitto per uscirne per uscirne meglio perché nel momento in cui abbiamo il coraggio finalmente di dire certe cose ecco che possiamo chiarirci con gli altri e possiamo uscire vincitori insieme non vincitori io vinco su di te o tu vinci su di me e vediamo chi è il più forte chi ha ragione la ragione sta sempre a 50 e 50 e quando dico sempre anche se sembra strano vuol dire sempre poi magari di questo se ne parla nelle sessioni private ma ecco che il percorso porta inevitabilmente alla completezza emotiva porta al prendere coscienza e consapevolezza delle emozioni di quello che si è fatto del perché si è di quanto forti possono essere in realtà i nostri legami quanto forte può essere l'amore che proviamo per qualcuno o che qualcuno prova per noi quindi ecco il consiglio è comunque quello di sfruttare al meglio questo momento e questa energia sfruttarla a pieno e cercare di raggiungere il cercare di sfruttare il confronto per raggiungere l'equilibrio il compromesso per capirsi per essere chiari vediamo adesso qual è l'angelo di oggi ecco appunto se se fate questo percorso che moltissimi di noi farà perché sembra davvero che le energie planetarie ci portino a farlo avremo fatto un ottimo lavoro nel nostro mondo emotivo possiamo davvero congratularci con noi stessi forse perché anche si tratta di qualcosa che ci portiamo dietro da tanto e che quindi finalmente riusciamo a sbloccare però questo questa carta ci dice che finalmente è arrivato il momento di passare a cose diverse la nostra anima deve uscire da questa stupidaggine qui nella quale si trova e deve passare ad altre lezioni piccole o grandi che siano deve iniziare a pensare a fare ad altri progetti nuove cose da fare insieme nuovi modi di vivere o vedere la relazione di qualunque tipo di relazione si tratti quindi ecco qualcuno può vivere una situazione del genere con il fidanzato il partner il marito qualcuno la può vivere con i figli o con i genitori o con gli amici fratelli e sorelle ecco può riguardare davvero chiunque però sarà una giornata nella quale riceveremo come una specie di promozione cioè la nostra anima sarà promossa perché ha comunque fatto un passo importante e lo scopo di tutte le anime sempre il motivo per cui tutti ci incarniamo e la lezione principale che tutti siamo tenuti a fare è quella di imparare ad amare ovviamente ognuno a modo suo ovviamente ognuno con i suoi tempi ma imparare ad amare tutto ciò che dobbiamo fare quindi questo sarà sicuramente un piccolo passo per ciascuno di noi se fatto bene per imparare ad amare per avvicinarci alla nostra meta per il resto ragazzi se volete conoscere i prezzi delle sessioni private date sul sito oppure mandate un email per il resto ci vediamo domani